Buongiorno ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Minecraft, ci troviamo oggi finalmente in una nuova Griffin Challenge La sfida di Griffin ragazzi che tanto vi piace su Minecraft Ita, come vedete sono anche un pochino senza voce ma è normale ragazzi Ho passato il capodanno come tutti quanti voi magari a divertirvi quindi spagate il tasto di like se avete passato un bellissimo capodanno Se ancora non l'avete fatto lasciatelo perché è molto importante, arriviamo a 1800 like perché siamo nel 2018 se appunto Quindi giriamo tutto quanto, 1802 like Ci viene direttamente in parita ragazzi, mi raccomando, bella, se siete nuovi iscrivetevi Ok gente ci siamo, 3, 2, 1, via, iscriviamola anche agli altri, si parte col tempo Come avete visto ragazzi ultimamente col counter, non ho messo, non sto mettendo il counter probabilmente Non ho le cuffie, non ho le, fermi, non ho le, dove sono le cuffie, le ho perse raga Allora calma, il, cosa di oggi, oggi cosa faremo, oggi creeremo un cubo di TNT in Minecraft Cercheremo di prima utilizzare tutti quanti i destructo vari che i bomber riusciranno magari a raccogliere Dovakin ti odio quindi, raga, è buggato o no il Dovakin? Comunque cercheremo di raccogliere il più possibile TNT perché prima sfrutteremo tutti quanti gli archi che utilizzeranno loro per griffare il centro dell'isola Poi al centro di quest'isola metteremo un cubo di TNT veramente enorme e cercheremo di fare spadere assolutamente tutto quanto Intanto i branco di Charlie, ne ho sparato uno giù però fa niente Sono assolutamente quasi senza voce ma un black hole non ce lo toglie nessuno perché sono tornato praticamente mezz'ora fa Dal, non dico dalla mia gita in montagna, di estratto, dalla mia vacanza in montagna Sono preso tre giorni di stacco dal mondo, sono andato in montagna con i miei amici E quindi diciamo che ho preparato tutti quanti i video che non mi aspettavo andassero così bene nel periodo del 31 e dell'1 Ho fatto un sondaggio nella sezione community, raga, se non so quanti voi l'hanno visto Quindi mi raccomando attivate la campanella per tutte quante le notifiche Perché così quando magari vi scrivo qualcosa di veramente importante nella sezione community Vi arriva una notifica dove potete partecipare ai sondaggi e a tantissime altre cose Comunque vi ho fatto una domanda per quando pubblicare i video del 31 e dell'1 Perché l'anno scorso quando ho messo il video del 31 di gennaio Cosa avevo messo? Una specie di vlog ed era andato non male, malissimo Poi vi dite a bella marca un vlog e vi do anche ragione raga Però Spider Jockey è passato un minuto e cinquanta e io ho trovato solo cacatine Quindi se muori, me lo dici prima Questa è una citazione di un film che se voi indovinate vi metto il cuore in chat Ditemi di che film è, è importantissimo Distratto ed era a fianco al coso lì Però io raga non sto trovando TNT e sta cosa qua non va bene Quindi cerchiamo prima di spaccare tutti... TNT signori miei TNT lanciamo... dammela qua, dammela qua, dammela qua, dammela qua Raga male, male, cioè bene che esplosa ma male perché la volevo in mano più che altro Perché voglio piazzarle e basta Comunque, non mi ricordo che stavo dicendo raga onestamente Stavo dicendo che qua... no non voglio TNT Però qua mettiamo via tutta la merdata che non ci serve Quindi zac 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 zac... ah sì dicevo che comunque ero in vacanza Quindi robe belle, quindi ero via, ero via con gli amici Avevo preparato la video... ah sì del video del 31 Che non mi aspettavo andassero così bene perché uno sta a 25.000 L'altro sta comunque a 12.000 che è il video che ho caricato appunto del 31 Che rispetto alle 1500 che avevamo fatto l'anno scorso Che era un disastro colossale Ho detto... oh raga tanta roba E in tanti hanno partecipato a sondaggio appunto Che ho messo in alzioni community perché ho chiesto Ragazzi ma che giorno volete il video del 31 e dell'1? Avevo messo un po' di risposte che magari voi lo sapete E... tanti voi a me ho detto Marco ma tu il video mettilo comunque alle 8 come il solito orario E noi te lo guardiamo lo stesso Una cosa che mi ha sorpreso raga onestamente Perché anche il 25 dicembre che era Natale Vi ho caricato il video alle 9 Però ho pensato cazzo ma alle 9 La gente mangia Ti pare Marco che ti guarda i tuoi video Invece il video di Natale è andato tipo a 30.000 viso Ah ok perché non è sempre Natale No beh comunque i video ultimamente non posso lamentarmi Soprattutto la vanilla raga Mi sta dando un sacco di idee per la vanilla Ma soprattutto un sacco di soddisfazioni perché È un progetto a cui lavoro tanto A me questi video qui dei Griffin Challenge Mi piacciono un sacco perché magari Voi lo guardate per tanto tempo E ascoltate magari tutto il discorso fino alla fine A me fa un sacco piacere Intanto il minion non fa assolutamente nulla Però a The Hater grazie Comunque in 4 minuti ho trovato tantissima roba Oh però questo qua esplode Fa niente E dicevo che comunque Della vanilla mi sta dando un sacco di idee Ho letto i commenti di video di ieri Della vanilla appunto dell'uno Che la stanza Quella del Come si chiama Come si chiama La stanza del monumento dei Del libro dei segreti Non vi piace Più che altro perché non hanno idea logica Potrei capirlo onestamente Però di per sé La mia idea era quella Di fare una stanza Un monumento strano Perché L'interno di un pianeta Alla fine è una cosa che Nessuno può entrare Nessuno può guardare E mettere quella lava Anche un po' così A mo' di pillar Dà appunto l'idea di Bas ma quanti hater sto trovando Ragazzi Comunque Dà un po' l'idea Di per sé Di zona mistica Una zona molto strana Come appunto L'ho costruita Nel video della vanilla Non è che io l'abbia spiegato Tanta bene questa cosa Perché L'ho registrato appunto Nel periodo in cui ho provato Tutti quanti video Quindi Era un pelo di fretta Se avete notato Comunque ho fatto quella stanza Il video durava 12 minuti 10 minuti Niente di che Onestamente Ai soliti video della vanilla Che durano Intorno ai 15-20 minuti E in più Della vanilla Ho fatto la farm Raga ancora hater Vabbè Ho fatto la farm Quella di Come si chiama Di oro Tutti a scrivere nei commenti Che era D'altra gente Come Surry per esempio Faccio nomi Che l'ha L'ha fatta Raga ma ovviamente Lo so perché comunque Ogni tanto Ho dato occhio Alla vanilla di Surry Perché Cioè mi rilassa Mi piace vedere Come intrattiene Surry E So che l'ha fatto Ho visto che è molto funzionale Per lui E lui mi sembra Che lo utilizzi Anche come farm di esperienza Cosa che io vedo Un po' Obsoleta Perché Avendo la farm Di under dragon È tutto quanto obsoleto In minecraft A livello di farming Di esperienza Perché fidatevi Cioè la farm di under dragon Raga in 4 ore Fa mille livelli Cioè in mille livelli Una persona normale In minecraft Ci fa Degli incantesimi Sbalorditivi Secondo me Sbalorditivi Raga Quindi diciamo che Secondo me È un'ottima fan Per il gold Quindi per i beacon Per tutte quante le varie cose Beacon che vorrei utilizzare Appunto Nella zona dell'oceano Che vorrei trovargli Anche un nome Quindi se avete un nome Per la zona dell'oceano raga Scrivetelo qua sotto Proponente dei nomi Perché La super mob farm Mi piace tantissimo Però lo vedo un po' Un nome Non Che dà l'idea Dell'imponenza Di quello che voglio costruire Perché Fidatevi Sono solo all'inizio Soprattutto col fatto Che poi ci sarà L'aggiornamento degli acquari No non ce l'ho fatta Ci sarà L'aggiornamento degli acquari Sarà un aggiornamento Veramente un sacco utile Intanto Wolfie scrive Se crash Mi è venuto bene GG bomber Tra E quindi Quindi raga Vorrei un po' Di aiuti Da parte vostra Anche questo Ma fatemi sapere Magari anche cose Vi aspettate Voi nella vanilla Perché Ho fatto adesso La farm Quella D'oro Tanti voi mi hanno proposto Di fare anche la farm Di cobblestone E ritorniamo appunto Sul ragionamento Che Per dirvi Anche Suri ha fatto Quella Anzi mi sembra che Suri In Italia sia l'unico Ad avere una farm Di gold E quello Ho notato che è Veramente un sacco Efficiente Però non vorrei Risultare forse Un po' Troppo ripetitivo Con gli argomenti Perché magari Vedete che La seconda farm È uguale a quella Di Suri Quindi a sto punto Voglio spostare Un attimino Il mondo Delle farm Ad altre cose Magari è una cosa Un po' più di nicchia Cose un po' più strane Sempre comunque Nella zona appunto La super mob farm Perché Ho in mente Cose Veramente un sacco Belle a livello estetico Soprattutto appunto Con i giorni Gli acquari Ho in mente Di fare delle Costruzioni Con delle dighe Molto piccole Per degli acquari Veramente un sacco Assurdi Raga Fidatevi Preparatevi Perché la vanilla Mi sta dando un sacco Di soddisfazioni Ma ci spendo Ma perché Trovo solo Raga Guardate quanta TNT ho trovato Zero Io spero che i bomber L'abbiano trovato In 7 minuti e 45 Perché oggi comunque Dobbiamo costruire La TNT Il coo più grande Di tutti quanti Però guardate Quanti attrezzi inutili Oggi è stato un pochino Strana Questa Griffin Sfida di Griffin Challenge Qualunque cosa Però Dicevo Aspettatevi qualcosa Con la giornata 1.14 Che sarà comunque Molto lontano Di veramente Spettacolare La mia vanilla Che vi sta piacendo Tantissimo Poi una cosa Che voglio chiedervi E comunque Visto che la vanilla Vi piace così tanto Diffondetela A tutti quanti Ragazzi Giratela Condividetela Ai vostri amici Dite questo qui Ha una vanilla fantastica Perché leggo Dei commenti Di persone che dicono Che ormai Non è per Vantarmi Ma molti scrivono Che la mia vanilla Sta entrando una delle più belle A livello di youtube italia Ti prego Tiene ti droppati Guarda butto sta carne Ma ti pare che Ma la droppa Ti pare E quindi Quindi raga Se la pensate Se la pensate veramente così A sto punto Fatela girare Cioè condividetela Con tutti i vostri amici Nei gruppi whatsapp Con tutti quanti Sarebbe una cosa Veramente un sacco bella Perché aumenterebbe Di più La visibilità La mia voglia Ancora di fare cose Più belle Perché più vedo risultati Nel mio impegno Meglio è Perché fidatevi Se non avessi visto Tutti quei risultati Da quando ha iniziato La super mob farm Probabilmente Non avrei continuata Con questa voglia Perché magari Io ora sono tornato Dalle vacanze Tutto quanto Ma Avvio in mente Mentre in vacanza Altre cose belle Da fare Per quella zona E magari anche Altre zone della vanilla Quindi Mi raccomando È una cosa molto importante Rimanere sempre sul pezzo Darmi consigli E tante altre cose Poi Commenti I commenti nella vanilla Ma anche negli altri video Per me Sono un sacco utili Lo sapete che li leggo Perché vi rispondo A tantissimi di voi Però Teneti Grazie per essere sposo E avermi lasciato tutto quanto Raga Teneti malissimo 9 minuti e 30 Comunque Male male Tutto bene No Male male E Quindi raga Commentate tantissimo Soprattutto nella vanilla Ma anche negli altri video Ma la vanilla è molto importante Perché diciamo che è anche Forse la spina dorsale Di un canale Che porta tanto minecraft E di per sé Ok la cesta addio È una TNT minuscola E di per sé È molto ma molto importante Spingere forse La serie principale Del canale Delle youtuber Che si segue Ma magari Si segue davvero Molto Come magari tanti di voi fan Mi seguono tanto Magari c'è chi segue Solo la vanilla C'è chi segue Solo la pittura X amount è più che normale I dieci minuti sono terminati ora Scriviamo nei bomber Quindi Bomberoni Finito Vedete Vediamo se vi faccio vedere Interrompi Dieci minuti e undici Ok Spaccato il microfono Ho comunicato agli altri Che tutto quanto finito A sto punto Io butto tutto quanto Quello che non è Black hole E TNT Purtroppo TNT Non ne ho Quindi buttiamo via Davvero tutto quanto Così sto a posto Cioè raga guardate che schifo Ho trovato A parte delle uova di creeper Ha proprio nulla A sto punto Vado a raccogliere tutto quanto Grifo con i vari black hole E poi Ci vediamo alla fine Quando preparo il cubo Di TNT Per vedere un attimino Se riusciremo A fare esplodere Almeno il sotto Fino al sotto Di questo cubo enorme Blank it un po' male Con Con queste cose Ok Mamma che bello Allora Ho comunicato a tutti quanti Cosa farò Ora Sono pieno zeppo E vi faccio vedere l'inventario Abbiamo solo 48 TNT Quindi dovremmo fare un cubetto Di TNT Però abbiamo un sacco Di black hole di extracto Quindi proviamo Un attimino A studiarcela per bene Ora Sparo tutto quello che ho E vi faccio vedere A fine Griff Tutto quanto Quello che riusciremo a togliere Ovviamente con Con gli archi E abbiamo preparato tutto quanto Una cosa molto importante Con i ragazzi in chat Abbiamo convenuto che Avendone trovate 48 Era più logico fare 48 Per ogni facciata Quindi mi hanno detto Marco Givatele No l'ho tolto la chat Mi hanno detto praticamente Di givarmele Così facciamo che 48 Che era il risultato Che avevamo ottenuto Durante la griffin challenge Grazie a tutti quanti Ai TNT Era per ogni facciata Quindi grazie a tutti quanti I bomber che sono in tab Lo faremo Andremo ad attivare Queste TNT E vedremo il disastro Che si creerà Con tutte quante Queste esplosioni Speriamo che il server regga Ragazzi Più che altro l'ho fatto Sull'isola del rosso Perché così Non l'ho fatta sulla mia Perché se muoio Spono direttamente Nella mia isola del bianco E vedremo i risultati Di questa esplosione Veramente atomica Ci mettiamo in game mode Vediamo un attimino Cosa sta succedendo Sta continuando a esplodere Infatti ora Mi sta renderizzando Tutte quante Se ci abbassiamo Secondo me Renderizza sempre di più Tutte quante le varie esplosioni Che dovrebbe fare Infatti guardate Stanno scrivendo anche in chat Finito No Stanno andando avanti Ora Le sta piano piano Renderizzando ognuna E Sta creando un bel solco Stiamo provando sempre di più A scendere Ce la faremo Chi lo sa Però qua già vedo Un po' di buchi E soprattutto sui lati Ne vedo un bel po' Credo che abbia finito Di renderizzare Tutte le esplosioni E questo è il devasto Che ha fatto Wow Credo che sia il griff Più devastante Che abbiamo mai fatto Su questo server E in generale Le griff in challenge Con i fan Perché è davvero enorme Quindi io ringrazio Tutti quanti i bomber Per avermi regalato L'oro tenete E mi dato la possibilità Di prenderti quanti Oggetti necessari Per fare questo griff Vi saluto a cercare Come con il commento Iscrivete a casa Questa è fatta In un prossimo video Da Mark È tutto ragazzi Bella Salutiamo tutti quanti Bomber In chat Ciao Ciao